Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi parleremo della cavalletta o con Augusta e spero che questo video vi piaccia, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e commentare se volete questo video in collaborazione con Alberto Lori e noi iniziamo la cavalletta è un istituto lungo dai 5 ai 6 cm che è munito di 4 gritte agli che sono a tal volo ha due antenne filiformi che si trovano sulla testa le cavallette avendo le zampe posteriori molto più robuste e lunghe dimostrano particolari attitudini su di quelle che gli permettono di saltare e di dargli la spinta per saltare questo insetto ha tendenza ad essere gregario, cioè a vivere insieme ad altri e l'alimentazione è praticamente vegetariana, cioè che non mangia derivati di altri animali e mangia foglie, erba e la maggior parte ha un ciclo vitale che si esaurisce dopo un anno di solito in autunno gli adulti e dopo la schiusa delle uova che avviene a fine maggio, cioè in primavera questi animali si possono vedere tra le siepe e si può ascoltare il loro stridulo canto sia durante la mattina che nelle ore calde e anche la sera ogni tanto se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ciao ciao!